Sono Aldo Panigata, l'azienda RTV Electronic di Como, siamo dei distributori nel settore anche audio e video. Ho conosciuto questa manifestazione casualmente, mi è sembrata sin dagli inizi che potesse essere interessante e quindi mi sono iscritto. Direi che un minimo di delusione l'ho avuta, se così la possiamo definire, sul fatto che, perlomeno l'impressione che ho avuto è che sia stata un po' poco legata al mercato nazionale e per fortuna forse tu sei stato l'unico che ha detto che poi tutto alla fine i problemi sul mercato italiano sono abbastanza diversi da quelli che in effetti tutto il resto anche d'Europa sta vivendo. Quindi questa, se vogliamo, è stata un po' un... mi aspettavo un approfondimento maggiore sui problemi nazionali, chiamiamoli così. Per il resto mi è sembrata decisamente molto ben frequentata, decisamente molto ben organizzata e la partecipazione mi è sembrata decisamente di alto livello anche da parte del mercato italiano. Quindi direi positivo alla fine. la mia impressione è che il Paese Italia stia andando in una direzione completamente diversa da quella degli altri. Non so che il 2013 ci si possa aspettare tutti quanti, ma non credo che sarà molto migliore di questo. Siamo visti i presupposti, visto parlando anche con... essendo nella parte commerciale io e avendo incontrato anche con i miei clienti, tutti stiamo dicendo che tutto sommato in questa fase finale dell'anno qualche cosina si sta muovendo, ma tutti abbiamo un po' di timori per l'anno prossimo. E sentirmi dire che c'è un trend decisamente positivo, estremamente interessante, mi spaventa perché vuol dire che allora noi siamo completamente buoni.